se hai seguito con attenzione lo short che ho fatto uscire ieri che preannunciava proprio l'uscita di questo video di certo non ti sarà sfuggito il fatto che ho rimaneggiato al volo la scaletta di questa settimana per dare precedenza proprio a questo contenuto qui e l'ho fatto a ragion veduta perché volevo evitare che qualche membro della community inavvertitamente spendesse o meglio sperperasse qualche migliaio di euro se deve acquistare un nuovo computer quello che è successo è infatti che i produttori di hardware sono finalmente usciti allo scoperto e si sono delineate con chiarezza le linee guida per l'acquisto di un nuovo pc linee guida che si basano essenzialmente su due fattori da un lato la cpu dall'altro le schede video ma per quest'ultime c'è una novità fondamentale che probabilmente avrai già presagito dal titolo di questo video ma non perdiamo altro tempo gettiamoci nella mischia e soprattutto se ti senti pronto iniziamo e partiamo proprio da questo articolo di hardware upgrade in cui leggiamo che il ceo di nvidia jensen wang recentemente ha rilasciato una dichiarazione molto ma molto forte nel corso di una conferenza infatti ha affermato che in nvidia l'intelligenza artificiale viene utilizzata per la computer grafica ma soprattutto che non possiamo più fare computer grafica senza intelligenza artificiale e calcoliamo un pixel mentre ne deduciamo gli altri 32 insomma è incredibile e così alluciniamo se vogliamo gli altri 32 pixel e il risultato è temporalmente stabile foto realistico e la qualità dell'immagine è incredibile e le stesse prestazioni sono per l'appunto incredibili ma che cosa vuol dire tutto questo con la tecnologia tradizionale quella che si basava sulle schede video o meglio sulle gpu erano questi ultimi i componenti del computer che si facevano carico di andare a disegnare letteralmente punto per punto o meglio pixel per pixel ogni immagine che compariva sul nostro schermo erano in grado di farlo eventualmente anche in maniera dinamica in modo tale da darci l'illusione del movimento con l'avvento tuttavia dell'intelligenza artificiale i produttori di hardware si sono resi conto che era possibile fare le stesse operazioni in maniera molto più veloce molto più efficiente molto più economica e molto più flessibile nell'esempio infatti che ti sto mostrando dall'altro lato sono solo i pixel contrassegnati con la x quelli che vengono disegnati dalla scheda grafica di tutto quanto il resto si occupa invece l'intelligenza artificiale ed i risultati sono stupefacenti sia in termini di realismo sia in termini di velocità ma soprattutto per il fatto che l'intelligenza artificiale a differenza delle schede video è in grado di evolvere nel tempo tornando al nostro articolo leggiamo infatti che calcolare un pixel ci dice wang richiede molta energia e questo ha dovuto al numero di calcoli necessari per la sua generazione mentre l'inferenza ovvero la generazione per mezzo dell'intelligenza artificiale degli altri 32 richiede non solo pochissima energia ma può essere eseguita in maniera incredibilmente più veloce quindi uno dei vantaggi non è solo l'addestramento del modello ma anche l'uso del modello cosa vuol dire questo che ogni volta che verrà rielaborato per mezzo dell'intelligenza artificiale lo stesso gioco la nostra percezione sarà di un miglioramento continuo della qualità visiva delle immagini che vengono generate dall'intelligenza artificiale perché ogni volta che ci lavorerà su imparerà dagli errori precedenti ma non solo Nvidia ha già imboccato questa strada da tempo mentre AMD sembra che lo farà decisamente a breve e aggiungo senza mostrarti l'articolo che ne parla che anche Intel è sicuramente intenzionata a procedere sulla stessa strada ma se queste possono sembrare solo supposizioni di un futuro chissà quanto lontano è il nostro Tom's hardware a chiarirci le idee e infatti nel suo articolo titola le schede grafiche sono destinate a scomparire sentiamo che dice il futuro del gaming potrebbe non includere più le schede grafiche dedicate secondo un'analisi di TechRadar del mercato hardware per pc negli ultimi due anni infatti i progressi nelle schede grafiche integrate nei non dei processori e nell'intelligenza artificiale stanno mettendo in discussione la necessità di gpu separate per il gaming e non solo aggiungo io l'evoluzione delle cpu con scheda grafica integrata inoltre sta rendendo possibile giocare addirittura a titoli tripla A ovvero i giochi ad alto budget che solitamente sono anche quelli che hanno le maggiori richieste in termini di risorse hardware e in particolar modo naturalmente proprio in termini di scheda video in questo caso vengono fatti girare anche sul laptop ultra leggeri senza alcuna scheda video dedicata e sono proprio guarda caso i nuovi chip snapdragon x elite di qualcomm ad essere in grado di far girare giochi come baldur's gate 3 in 4k anche su portatili sottili anche intel e amd come abbiamo già visto stanno migliorando notevolmente le prestazioni grafiche dei loro processori ma qui va aperta una parentesi sono infatti proprio questi portatili dotati di processori qualcomm snapdragon ad essere i famosissimi copilot plus pc generalmente ovvero gli unici in grado di far girare anche windows 11 24 h2 con tutte le sue piene funzionalità di intelligenza artificiale ma non basta perché il secondo elemento che minaccia il futuro delle schede video dedicate è proprio la crescente domanda di gpu destinata ai progetti di intelligenza artificiale nvidia e amd infatti stanno puntando sempre più sul mercato ai spostando il loro focus e portandolo lontano dai prodotti consumer ovvero quelli destinati a noi poveri utenti e questo potrebbe portare alla fine delle gpu gaming di fascia alta nel giro di poche generazioni ipotizza tom's hardware ma non basta perché io rincaro la dose dicendo o meglio ricordandoti due fattori essenziali il primo è il fatto che nel momento in cui un'azienda come nvidia oppure come amd sposta il suo focus produttivo su altre cose fisiologicamente si genera una carenza di disponibilità ad esempio nel nostro caso proprio di schede video causando un aumento di prezzi come quello a cui abbiamo assistito tristemente durante il periodo del covid come se tutto questo non fosse abbastanza va considerato che in realtà le soluzioni alternative esistono già come proprio i copilot plus pc che abbiamo visto essere già pienamente in grado di far girare senza alcuna scheda video dedicata anche dei titoli molto pesanti dal punto di vista del gaming e non solo e che sono a nostra portata di mano anzi oserei dire di portafogli certo che vista sotto questa luce la situazione hardware assume dei contorni decisamente diversi rispetto a quelli che poteva avere anche solamente ieri se consideriamo infatti che acquistare una rtx nvidia 40 90 e cioè solo una scheda video ti viene a costare circa 2000 euro mentre con 1500 1800 euro puoi acquistare un copilot plus pc con qualcom snapdragon x elite cioè proprio quello di cui abbiamo sentito parlare adesso nell'articolo sicuramente per avere una macchina completa e che ha una proiezione verso il futuro molto maggiore possiamo valutare di spendere diversamente i nostri soldi tutto questo senza considerare anche il fatto che stanno per uscire le versioni desktop dei copilot plus pc infatti le principali case che producono processori si stanno già impegnando in questo senso ma veniamo a noi e ai ringraziamenti del giorno perché avendo slittato il video che sarebbe dovuto uscire oggi purtroppo ho dovuto far slittare anche tutti quanti i ringraziamenti che avevo promesso a molti che ci sarebbero stati proprio nel video di oggi ma tranquilli tutti nel video di venerdì ci saranno ma un ringraziamento comunque va fatto ed è quello destinato proprio a te che hai guardato questo video mi hai fatto compagnia nel corso di questi minuti e detto questo non mi resta che salutarti e darti come di consueto appuntamento alla prossima